Ragazzi, un po' d'allegria che ci vuole sempre! Davi! Come facciamo? Davi! 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 Noi ci facciamo una bella foto! Vieni a te! Vieni a te! Vieni a te! Ciao! Buon pasqua! Ciao! Buona festa! Ciao! Ciao! Buon Natale! Buon Natale! ma perché stai mangiando è quella della caccia all'avanzo l'hai comprato questo questa purtroppo noi non prendiamo niente compriamo il cibo pre digerito in bocca inizia della barba lui normalmente visto però non disturbiamo sono spiritosa carosa cipollina ragazzi guardate che bondà abbiamo un pomodoro prosciutto mozzarella mozzarella di quella buona si sente che buona l'impasto è fiabile al punto giusto questa volta non c'è la sponso della bex ma della cipollina però la bex l'abbiamo nominata quindi abbiamo comunque fatto pubblicità di nuovo ora mi va mangiare dalla pagina no niente la disturbiamo la luce cosa ne pensi di questa caccia dimmi va bene ci sta non venivo da un sacco di tempo ma avete costretto ad indossare qua il turbante rosso si dona perfezione perché si mangia durante queste caccia all'avanzo si mangia perché ci dobbiamo rifocillare dobbiamo prendere le energie il nostro carburante giriamo velocemente per prendere tutto il cibo dai vari barri però questo lo paghiamo lo paghiamo non ce lo dà è passata la moto a 200 all'ora di cose che capitano è giusto che c'è la pausa e ne approfittiamo per mangiare e bere una cosa mostruosa una recensione per questo arancino alla pistacchio dacardi io non mangio quasi a pistacchiose perché troppo dolce non mi fanno impazzire ma questo si è buonissimo poi posso confermare il famoso borsa di serena eccolo l'abbiamo preso in diretta un granito 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 di sito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.